Ciao! Continuare a seminare, continuare a seminare il tuo seme, continuare a fare quello che stai facendo, a esprimere la miglior parte di te, che è quella che non ha dubbi, è quella che ti fa sentire forte, che è quella che fluisce in modo spontaneo. Sì, continua per quella strada per una ragione che domani ti darà la ragione, è semplice, un video molto corto, ma un video fondamentale, un abbraccio, un hug, metti like al video, condividilo, registrati sul canale, attiva la campanella e ci vediamo per il prossimo video. Sarà breve o sarà lungo? Vediamo. Ciao! Grazie! 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 Grazie!